Da oggi in Puglia è possibile riprendere a praticare i cosiddetti sport da contatto, lo prevede un'ordinanza emanata dal presidente della regione Puglia, Michele Emiliano, in contrasto con il parere del Comitato Tecnico Scientifico. Stabile la curva dei contagi, mentre l'epidemiologo Lopalco rassicura la prima ondata pandemica è in fase di risoluzione in tutta Italia. Sentiamo. Da oggi in Puglia gli amanti di calcetto, pallavolo, basket, pallanuoto, beach volley e sulle spiagge possono riprendere a praticarli, perché il presidente della regione Puglia, Michele Emiliano, ha emanato un'ordinanza che concede il via libera alla pratica dei cosiddetti sport da contatto, un provvedimento che è in controtendenza rispetto a quanto deciso dal Comitato Tecnico Scientifico che ha espresso parere negativo alla ripresa. L'ordinanza prevede precise indicazioni, non solo relative al rispetto delle ormai collaudate norme anti-Covid, come uso della mascherina e di gel igienizzanti, cartelli informativi, misurazione della temperatura corporea e costante pulizia degli ambienti, ma definisce anche l'accesso a docce, spogliatoi e impone alcune divieti come la condivisione di borracce, bicchieri, bottiglie, asciugamani e accappatoi. A bordo campo per giocatori e atleti dovranno essere messi a disposizione fazzoletti monouso e contenitori in cui smaltirli, oltre a dispenser con soluzioni idroalcoliche per l'igiene delle mani. Tutti gli indumenti e oggetti personali degli atleti devono essere riposti in una borsa personale che sarà sistemata in armadietti che non potranno essere condivisi. L'ordinanza impone la verifica delle caratteristiche di areazione dei locali e degli impianti di ventilazione dei luoghi chiusi. Sul fronte contagio scilla la curva epidemiologica. Su oltre 30.000 test fatti in Italia nelle ultime ore si evidenzia la rilevazione di un positivo ogni 159 persone. Negli ultimi giorni questo valore è stato in media sull'1%, lo 0,6 ieri. Sono 5 le regioni ad aumento zero e sono Friuli, Venezia Giulia, Calabria, Molise e Basilicata e la Puglia dove oggi dei 1896 test effettuati per accertare l'infezione da Covid-19 solo uno ha dato esito positivo ed è stato rilevato in provincia di Taranto. Nessun decesso invece è stato registrato. E' quanto si legge nel bollettino diffuso dalla Task Force regionale che si sta occupando dell'epidemia. Sono 3.814 le persone guarite dall'infezione, mentre i positivi accertati sono 173. 27 sono ricoverati negli ospedali della rete Covid, mentre gli altri 146 sono in isolamento domiciliare. Il 60,9% dei positivi è sintomatico. Dati che tranquillizzano e consentono di poter affermare che al momento la prima ondata pandemica è in fase di risoluzione in tutta Italia. Lo scrive in un post pubblicato su Facebook l'epidemiologo e consulente della regione Puglia, Pierluigi Lopalco. Il virus circola a bassa intensità su tutto il territorio nazionale e dalle indagini siero-epidemiologiche la percentuale di popolazione che ha sviluppato anticorpi contro il Covid è mediamente bassa nelle regioni del nord e molto bassa in quelle del centro-sud. L'esperto sostiene che la scienza non conosce il comportamento del virus in relazione al clima e quindi non è chiaro cosa potrà succedere in estate se fossero del tutto eliminate le misure di controllo e di distanziamento interpersonale. Non è certa una seconda ondata epidemica in notturno o inverno, perché questo dipenderà fortemente dalla capacità di bloccare la circolazione del virus da parte della sanità pubblica, dice Lopalco. Non sappiamo se quando sarà disponibile in produzione su larga scala un vaccino sicuro ed efficace. Grazie a tutti. Ra Хорошо. Grazie. Hur�� è arriv 선발ulare e fare blirando l'umicarete maco e funziona per anche Crétera si comissima, ma la ricerca, ma la ricerca, is constantly stimpeto un cloudo ma ma existem parole, risけて mettere.